Ogni anno in Liguria si verificano tra i 100.000 e i 300.000 casi di sindrome influenzale, 5.000 accessi al pronto soccorso dovuti a influenza e polmonite negli over 65 e tra i 200 e i 600 decessi. È anche per questo che oggi in Regione Liguria è stata lanciata la nuova campagna contro l'influenza. Partirà ufficialmente il 4 novembre e sarà veicolata attraverso spot televisivi, affissioni, canali social e resa disponibile sui siti internet delle aziende ospedaliere e degli ospedali della Liguria. Come sarà l'influenza di quest'inverno? Fare delle previsioni sull'influenza è sempre molto difficile, parliamo di quattro virus influenzali che sono maestri di trasformismo, nel senso che ogni anno cambiano abito. Quest'anno la novità è appunto che sulle quattro varianti antigeniche che noi conosciamo due sono differenti e ovviamente sono state inserite nel vaccino. Quindi il grande giorno dell'inizio della campagna di vaccinazione antinfluenzale deve servire per rendere la popolazione consapevole soprattutto che si deve vaccinare che quest'anno è ancora di più importante vaccinarsi proprio perché abbiamo queste due nuove varianti contro cui non siamo ancora protetti. Si dice che sarà quindi un'influenza più dura anche per le categorie non a rischio? Diciamo che se dovessimo fare le previsioni oggi su quello che è successo nel continente perché diciamo nell'altro emisfero, l'emisfero sud del mondo, dove quando qua da noi è estate, là è inverno e quindi hanno la stagione influenzale, ci potremmo aspettare una stagione a livelli intermedi. Anche perché noi l'anno scorso, nella stagione influenzale scorsa meglio, ne veniamo una stagione veramente ad elevata incidenza. abbiamo stimato circa 8 milioni, 8 milioni e mezzo a livello nazionale di italiani messi K.O. dalla sindrome influenzale. Quindi quest'anno considerato che è vero che ci sono due varianti, però tutto sommato abbiamo avuto una stagione abbastanza dura e pesante l'anno scorso. Quest'anno se dovessi sbilanciarmi direi che dovrebbe essere una stagione a livello intermedio e quindi ci sospettiamo sui 5-6 milioni di casi a livello nazionale che non sono pochi, però decisamente meno rispetto a quelli dell'anno scorso. Questo come si ripercuote invece sui numeri Liguri? Sui numeri Liguri diciamo che su 1 milione e mezzo, 1 milione e 600 mila meglio di popolazione, considerato però che la Liguria è una popolazione dove gli anziani sappiamo essere intorno al 28%, quindi circa 380-400 mila persone, l'influenza picchia di solito più duro. Per cui la stima di oggi potrebbe essere intorno a un 10% di Liguri colpiti, che vuol dire circa 150 mila persone nell'arco della stagione influenzale messe capo dall'influenza. Abbiamo una rete altamente qualificata di specialisti in igiene e in infettivologia e vedremo come questo piccolo gesto possa farci scampare da qualche acciacco in più e magari qualche volta abbastanza significativo. Vacciniamoci! Dobbiamo sempre fare meglio perché l'influenza è un qualcosa che incide soprattutto sulla popolazione anziana, fragile o chi ha già delle patologie croniche. Quindi è un massimo impegno a partire dai medici di medicina generale, che ancora una volta saranno i protagonisti con la medicina di iniziativa, per andare quindi a stimolare le persone, una grande comunicazione rispetto all'importanza, perché finire al pronto soccorso perché non si è fatto il vaccino direi che forse è l'ultima cosa.